La variante di Gimarra pende sulla testa dei fanesi come una spada di Damocle, pronta a precipitare e a seminare devastazione sulle colline più belle della città, saldamente protette da vincoli paesaggistici e architettonici. È il grido d'allarme del Comitato per la Salvaguardia della Trave, Arzilla e Gimarra, che dopo aver raccolto 5.000 firme di cittadini contrari a quest'opera, ha già distribuito più di 20.000 volantini nelle case dei fanesi. Nell'opuscolo sono stati riportati non solo i pareri di politici locali e regionali, ma anche quelli di alcuni architetti, tra cui Stefano Seri. Interquartieri, la parola è chiarissima, è una strada che collega i quartieri. Non può avere un traffico, non può sopportare un traffico pesante, ci sono ben altri tipi di strade per questo. Far funzionare gli interquartieri da circonvallazione significa spostare il traffico di 300 metri dalla porta maggiore alla città un pochino più avanzata, ma sempre all'interno della città. Un errore madornale. Per Seri una possibile soluzione che non vada a deturpare il territorio potrebbe essere quella di seguire il percorso dell'autostrada con una circonvallazione che vada a collegarsi alle opere compensative già esistenti. Poi, per il collegamento con gli interquartieri, per l'architetto si potrebbe pensare ad un tracciato che parta sì dalla rotatoria di via Aldo Moro, ma diverso rispetto a quello progettato e inserito nel piano regolatore. Attualmente lì c'è un elettrodotto e che le ferrovie dello Stato pare vogliano interrare parte di questo elettrodotto. Bene, concertazione anche con quell'ente, anche con le ferrovie. Potremmo passare su quel percorso storico delle interquartieri, adesso purtroppo tra case già costruite, ma lavorando in trincea. Quindi abbiamo una fascia di 15-20 metri che possiamo sfruttare, lavoriamo in trincea, eventualmente copriamolo se necessario per non dar fastidio all'abitato circostante. Attraversiamo con un ponte il torrente Arzilla e con solo 400 metri potremmo ricollegarci, contro un chilometro dell'altro percorso, potremmo ricollegarci alla strada provinciale. È una provocazione, ma non sottovalutiamolo. Per la complanare all'autostrada, concluso l'architetto, l'amministrazione comunale aveva già valutato dei progetti, i costi erano minori e non si andavano a rovinare aree importanti, come quella che circonda Viale Frusaglia. Qui dove siamo abbiamo una zona sportiva verde, abbiamo il torrente Arzilla, abbiamo un vecchio progetto di collegamento quasi di un parco fluviale, utilissimo sotto ogni punto di vista, anche turistico, la nostra città con la zona sportiva, basterebbe accorgersi e un attimo metterlo in pratica. Anche per valorizzare la zona intorno al torrente? Estremamente, estremamente. Il sindaco di Monbaroccio ci ha chiesto collaborazione in questo. Pensiamo a un percorso verde, un percorso ciclabile, un percorso pedonale che non passa, che so io, a fianco della provinciale per Fenile, ma passa vicino all'alveo del torrente. Come associazione Vivere il Poderino abbiamo portato un pochino di gente in giro qualche settimana fa, persone del quartiere che visitando quei luoghi più di 300 persone si dicono, ma è una cosa meravigliosa, non sappiamo nemmeno l'esistenza. Bene, apriamo gli occhi e facciamo attenzione a quello che abbiamo, è un patrimonio che una volta rovinato non l'avremo più.